ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi edizione straordinaria piccola edizione straordinaria per darvi un piccolo report per chi non ha facebook visto che l'ho pubblicato su facebook però mi sembra giusto anche su ovviamente sul tubo dire come è finita la vicenda dell'ontario ragazzi l'ho incollato è tornato intero no ragazzi in realtà grazie a alessandra de santis che ringrazio pubblicamente sono riuscito a parlare con l'ontario ragazzi che mi ha indirizzato ho spiegato il problema così era successo hanno visto video e foto foto soprattutto dalla sezione rotta del coltello e mi hanno indirizzato da collini a busto arsizio da coltelleria collini per far vedere il coltello dal vivo e vedere se c'erano i presupposti per un cambio oggi mi sono recato da collini in realtà potevo già andarci più di una settimana fa ragazzi però per impegni non sono riuscito ad andarci sono andato da collini gentilissimi ragazzi a parte che entrare da collini è il paradiso ragazzi è veramente il paradiso sono rimasto due ore a parlare con i tecnici di collini ragazzi tanta roba tanta roba mare di nozioni incredibili abbiamo visto mille pezzi insieme davvero due ore fantastiche ragazzi fantastiche se passate in zona andate perché veramente bellissimo anche solo entrare a farci una chiacchierata comunque hanno guardato il coltello ragazzi hanno visto appunto il grano all'interno del coltello con dei difetti macroscopici quindi ovviamente sostituzione del coltello immediata ragazzi coltello nuovo quindi prima di tutto grazie ad ontario per il servizio clienti una volta riusciti a raggiungere ragazzi sono mossi in frettissima mi hanno detto che le mie mail precedenti erano andate in spam quindi può darsi diamo il beneficio del dubbio comunque una volta riuscito a parlare con ontario ragazzi si è mosso tutto velocemente nel giro di una settimana potevo già andare a ritirare il mio coltello a far vedere i pezzi per la sostituzione poi ritirare il mio coltello un grazie enorme a collini per la bellissima chiacchierata per il cambio immediato del coltello rotto ragazzi vicenda risolta positivamente non è da tutte le case ragazzi rispondere alla una rottura del coltello fatta nel modo in cui è successa ragazzi ripeto visto che ormai è di dominio pubblico abbiamo parlato tantissimo stavo picchiando davanti il coltello ha fatto questo ok ho dato una botta dietro per riequilibrarlo non era una vergata tipo mazinga ragazzi era un colpo per equilibrarla il coltello per come ha ceduto ragazzi non poteva essere temprato bene il trattamento termico c'era stato qualcosa che non andava sicuramente o nel trattamento nel rinvenimento come si è potuto vedere dai difetti macroscopici del grano ragazzi quindi si è rotto ragazzi sicuramente la botta dietro non gli ha fatto bene sicuramente il tagliente col serreti ha innestato la rottura però ragazzi non era un coltello fatto bene abbiamo avuto la conferma quindi ragazzi vicenda risolta grazie grazie a tutti ciao ragazzi e buona giornata